Ti presento si bemolle. E' un diavoletto, eh? Se mi metto a parlare mi strilla in pace il cornutone, guarda, più parlo e più lui, ma ad occhio nudo sai come si vede bello quella forma di mascherino che sta facendo? Ma che cornutone, lo guardo in pace e mi canto. E' un amore, il suo professore. Ciao trombetta, buongiorno.